ah bene bene volevo il primo sfrank però il campo più ostico per noi interista è questo ci hanno rubato la partita perché non era rigore prima è sbattuta in testa e poi ha toccato un'altra parte del corpo ma se cambiano le regole sempre hai capito quindi la marotta league non ha funzionato in questa partita stella mi sta benissimo è un campo difficile c'era la squadra campione d'italia loro danno il tutto per tutto mi sta bene però bisse tutta la partita non può farla bisse a un certo punto ha spento il lume hai capito e comunque sia ci hanno rubato la partita stasera lo posso dire stasera lo posso dire stasera la marotta league hai visto hai visto non è più la marotta league non è più ora dobbiamo vincerle duramente con esperienza capito prima la testa e poi sul braccio ma prima quando tocca il corpo e poi va in un'altra parte del corpo non è mai rigore ma non fa niente un pareggio beh un pareggio che io avevo perplessità ho detto a genova per noi è un campo brutto e svrang un punto d'oro a genova svrang è andata molto bene però poi la solita inter che si si mangia i gol e vabbè non importa un culo un culo enorme su sul rigore sommer non mi è piaciuto sommer oggi niente sommer sommer non mi è piaciuto ma un culo come andate ora chi avete lì a genova santo chi c'è lì san genova chi c'è i testimoni di geova chi c'è chi c'è lì andate ad accendere un lume al santuario lì forza inter bene così si è vista l'inter la prima partita